Promuovere la cultura del dare nuova vita agli oggetti dismessi, evitando che essi vengano buttati senza poter essere dunque recuperati e riutilizzati. Con tale nobile scopo il comune di Serico e Fab Lab Belluno, in collaborazione con Valpe Ambiente, hanno attivato all'ecocentro comunale il centro riuso, aperto ogni secondo sabato del mese. Qui si potranno consegnare diversi materiali, in base alle singole esigenze delle varie associazioni di Serico coinvolte, che al momento sono lo stesso Fab Lab Belluno, Luganega, Binamba, Insieme Si Può, Giovanni Conz e Scout Serico. L'elenco dettagliato del materiale richiesto si può consultare al sito linktr.ee slash progetto riuso, a dare il via all'iniziativa come detto lo spunto di Fab Lab Belluno, presieduto dal giovane Lorenzo De Luca. Abbiamo visto che c'erano tante associazioni nel territorio che già facevano recupero, riuso, ma mancava un po' la sinergia. Siamo riusciti a creare un progetto più coeso, che unisse tutte le associazioni del comune di Serico, che si occupavano chiaramente di riuso. Oltre alla parte online, che abbiamo già creato come hub per trovare tutti i materiali che poi si potevano venire a donare, abbiamo deciso anche di creare un centro di riuso qui nell'ecocentro comunale di Serico, aperto il secondo sabato del mese, per dare la possibilità anche ai cittadini che vengono proprio all'ecocentro di poter donare il loro materiale. Non può che ritenersi soddisfatta Gioia Sacchette, assessora all'ambiente del comune di Serico. Il fatto che il Fab Lab ci abbia contattato per poter iniziare a effettuare una raccolta che già faceva all'interno della propria sede, anche all'ecocentro, ha un valore simbolico molto elevato, soprattutto a livello di comunicazione, in quanto molte persone non sanno di questa iniziativa e c'è la possibilità di intercettare dei beni che altrimenti verrebbero conferiti all'interno dei cassoni e purtroppo diventano rifiuto e quindi non c'è più la possibilità di poterli recuperare.